Ciao studenti, oggi parleremo di Boiardo, è stato il consigliere del Duca d'Este alla corte di Ferrara. Tra le sue opere troviamo gli Amores, tre libri di poesie scritte in volgare dove riprende chiaramente il poeta latino Ovidio e l'Orlando innamorato, rimasto incompiuto, riprende la tradizione epico-cavalleresca, quindi il ciclo bretone che trattava di Re Artù e quindi il tema dell'amore, e il ciclo carolingio, cioè di Carlo Magno, e trattava della guerra. In Boiardo abbiamo la fusione tra i due cicli, quindi fonde il tema dell'amore con il tema della guerra. Per quanto riguarda la trama, l'apparizione di Angelica alla corte di Carlo Magno scatena i desideri di tutti i cavalieri, di lei si innamora anche Orlando, che arriverà a perdere la ragione. Tra i temi abbiamo i valori cavallereschi di lealtà e onore, il tema dell'amore e l'elemento magico. Il poema incompiuto sarà completato da Ariosto con l'Orlando furioso.